La Festa dei Nonni Tutti gli anni stiamo organizzando questa bellissima festa in onore dei nonni che sono il ricordo del nostro passato, però che ci trasmettono tante belle memorie, pensieri, modi di vivere e tante cose ai nostri bambini. Quest'anno ci ha aiutato il nido, la materna, gli elementari e anche le medie. Il tema soprattutto sono le erbe ufficinali. I bambini delle materne hanno fatto sale con tutte le erbe ufficinali dentro e come potete vedere l'esposizione verte su queste cose. Ci sono poi per le medie tante lettere dei bambini ai loro nonni. Buon auguri e ricordatevi dei nonni che danno tanto e sono il nostro passato, ma anche tante volte a chi ci seguirà daranno tanto di ricordi e di tanti insegnamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.